benvenuta nel mondo di amazing matti makeup questo è un video di risposta a georgia april ciao georgia in cui tu sfoggi un bellissimo trucco sui toni del borgogna e lo avevi in una review della elfo a me quel tuo trucco mi ha ispirato per creare questo che ho indosso io ti lascio il tutorial e io spero che il video ti piaccia e vi lascio giù il link a tutti i miei riferimenti al mio blog tutto quanto e alla prossima un bacio ciao parto già con la base pasta metto la bb cream, metto il correttore e riempio le sopracciglia con questa macchetta i guess you're right un pugno di cannello nella parte bassa in modo tale che la sfumatura sia molto più soffa diversamente risulterà solo un pugno nella parte alta i guess you're right i guess you're smart cause i'm taking by you taking me your part i could best believe i died to live for for the hour to take for me and i am speaking like i've spoken only for i guess you're right i guess you're right if i wake up in your mind i guess you're right if i sink into your sleep and make it deep i guess you're right if i never let you go i know you so and oh so right i guess you're right i guess you're right if i wake up in your mind i guess you're right i guess you're right i guess you're right i guess you're right can i crawl around your bones and make my own would that be right if i never let you go i know you so and oh so right take it as a sign questo è fondente, un marrone cioccolato caldo lo andrò a stendere con un pomeno da sfumatura e quindi mi aiuterà a intensificare il trucco scelgo di mettere una matita nera su tutto il contorno dell'occhio per evitare un antiestetico occhio da pianto i guess you're right i guess you're right i guess you're right i guess you're right if i wake up in your mind i guess you're right i guess you're right i guess you're smart i guess you're right etc Grazie a tutti.